Un amico di Thomas Markle, il padre separato di Meghan, offre ai turisti l'opportunità di visitare alcuni dei luoghi più famosi di Montecito, dove vivono i Sussex. La proposta di un tour delle celebrità tra le attrazioni di Montecito, che promette di portare i visitatori a pochi passi dalla casa del principe Harry e Meghan Markle, ha suscitato indignazione per la minaccia alla privacy della famiglia. Il duca e la duchessa di Sussex, che hanno lasciato la vita reale nel 2020, hanno affermato in passato che desiderano crescere i loro figli piccoli, il principe Archie e la principessa Lilibet, lontano dai riflettori. Il tour in autobus, pubblicizzato come il Royal Celebrity Tour di Los Angeles e Montecito, è condotto dal fotografo Carl Larsen, un caro amico del padre di Meghan, Thomas Markle, ed è stato venduto per 958 sterline e 84 pence, 1200 dollari, per un gruppo di 6 persone. Lo specchio È stata inserita per la prima volta sul sito Tripning, dove il signor Larsen ha scritto la descrizione. Sono il famoso fotografo di celebrità Carl Larsen, il migliore amico di Thomas Markle, il padre di Meghan, e il ragazzo con uno straordinario portfolio esclusivo di foto di il principe Ferri e Meghan Markle, insieme a Montecito. Ha aggiunto che era l'unica persona a conoscere la verità su quello che è successo tra Meghan e suo padre, e ha promesso di offrire ai turisti un tour approfondito della zona in cui Meghan è cresciuta, comprese le sue vecchie case e scuole, e vari punti caldi di Montecito in cui lei e Ferri, sono stati avvistati. Tuttavia, da quando è stato pubblicato online, molti hanno espresso la loro disapprovazione per il tour, con l'imprenditore tecnologico Christopher Busi, che ha accusato Larsen di molestie. Busi, apparso nella serie Netflix Ferri e Meghan, ha postato sulla sua piattaforma di social media Sportable, le molestie nei confronti di Ferri e Meghan si stanno intensificando, e ora queste persone squilibrate, stanno mettendo offline le loro molestie, mentre cercano di trarre profitto dalle loro molestie. Questo è malato. Grazie a tutti.